Il suo nome è legato strettamente a quello di altri due pezzi da 90 di Cosa Nostra, Totorrine e Bernardo Provenzano. Dei due super boss, infatti, Vito Roberto Palazzolo è stato sempre ritenuto il tesoriere. Condannato nel 2009 a nove anni di carcere per associazione mafiosa e arrestato a Bangkok il 31 marzo del 2012, il boss di Terrasini fino ad oggi è sempre riuscito ad evitare l'estradizione in Italia. Ora però questo lungo percorso sembra arrivato alla fine. Palazzolo dovrebbe presto tornare in Italia, anche se non si conosce ancora il carcere di destinazione, non sarà comunque detenuto a Palermo. Di lui si era occupato anche Giovanni Falcone, Palazzolo infatti era coinvolto in un filone dell'inchiesta Pizza Connection per narcotraffico e riciclaggio. All'epoca, quando venne condannato in Svizzera a cinque anni e sei mesi di reclusione alla fine degli anni Ottanta, il boss era già lontano dall'Italia. La sua latitanza, trascorsa quasi interamente in Sudafrica, sotto falso nome, tra viaggi di lusso e vita da manager, si era interrotta solo per una breve parentesi quando venne arrestato ed estradato in Svizzera. Scontata la pena, era però rientrato in Sudafrica, ottenendone persino la cittadinanza nel 1994. Una latitanza adorata, la sua nonostante la condanna in Cassazione e le ripetute richieste di estradizione avanzate dall'Italia, grazie al fatto che il Sudafrica non riconosce il reato di associazione mafiosa. Infine, le manette per lui sono scattate il 31 marzo del 2012, quando venne arrestato all'aeroporto di Bangkok dagli uomini dell'Interpol. I legali del boss hanno fatto ricorso contro l'estradizione che soltanto adesso ha ricevuto il Via Libera.